Ma tu conoscevi già questo luogo o hai dovuto lavorare di fantasia? No, no, sono venuta spesso qua sia al filo d'erba e l'anno scorso avevo già partecipato a Serre d'Estate e quest'anno mi hanno dato anche questo compito che è stata una sfida ma molto bella. Una sfida semplice o ci hai dovuto lavorare anche di testa un bel po'? No, è stato abbastanza istintivo però è stato difficile trovare la giusta composizione tra tutti i vari elementi. E quindi sono andata anche a ricreare la tipografia a mano che ricordasse magari i manifesti all'interno delle manifestazioni. E quindi c'è un incastro di idee unite. Messe insieme. Vorrei solo chiederti un appunto sulla scelta delle cromie, tutte le sfumature del rosa. Ed è, penso che sia una scelta anche abbastanza coraggiosa perché anche un forse per abbracciare tutte le declinazioni del genere ma insomma in realtà sembrano tutti diversi eppure fanno parte della stessa famiglia di colore. Esatto, quindi ho cercato vari colori sempre della stessa tonalità appunto creando così ancora diciamo più integrazione però mantenendo questi toni del rosa rispetto al tema del femminismo e diciamo avendo anche qui un, come posso dire, un richiamo a quel mondo. È decisamente molto molto bello. Non so, l'avrete visto sicuramente anche stampato più grande. In ogni caso, insomma, se vi capita di incontrarlo sappiate che è proprio lei che l'ha realizzata. Allora, intanto è tutto molto imprevedibile qui perché adesso sta piovendo. Allora, noi intanto allestiamo una copertura per le preziosissime camere, intanto un passaggio musicale ma torniamo ancora con Mara Pidello tra pochissimo. I salti mortali dei nostri tecnici, diciamo, ci permettono di fare, diciamo, questo ultimo pezzo. Dennis, all'interno della seconda giornata di Serie d'Estate 2024, stavamo raccontando insieme a Mara Pidello, insomma, autrice della grafica del manifesto di quest'anno, insomma, i contenuti di questa immagine che tra l'altro è finita anche su delle bellissime bag. Esatto. Volevi aggiungere un altro elemento, se non sbaglio, rispetto a questo, no Mara? Sì, praticamente una cosa che mi piaceva anche sottolineare è che ho cercato all'interno di questo asterisco di inserire persone dove non si identificassero in un genere. Quindi non si capisce bene di che genere siano. Così da risottolineare appunto il tema anche di tutto il festival. Sottomano intanto, però, per venire anche al lavoro quotidiano di Mara Pidello, una delle sue opere. Posso chiederti banalmente, diciamo, cosa ti ispiri nel tuo lavoro quando lavori? Per esempio, qui abbiamo delle biciclette, noi siamo molto innamorati anche di questo mezzo di locomozione, no Dennis? Per cui, insomma, qui abbiamo delle biciclette, ma in ogni caso, tra l'altro, se doveste passare da queste parti, c'è il banchetto di Mara Pidello dove si possono anche acquistare, diciamo, i suoi lavori. Qual è la tua fonte di ispirazione principale? Allora, diciamo che mixo un po' gli eventi che mi succedono durante la mia vita e sono una persona molto curiosa e quindi osservo molto e mi piace dare un tratto un po' ironico e quindi diciamo che l'illustrazione mi riesce ad alleggerire anche un po' magari è un po' il mio mondo dove posso essere totalmente me e quindi questo qua si chiama tandem XXL e ho immaginato appunto un tandem che non ha fine e quindi un tandem di integrazione dove chiunque può pedalare insieme a una meta. Dennis, ci mancava il versante dell'illustrazione con Mara Pidello, siamo completamente in bolla rispetto a questo ambito, no? Esatto, abbiamo raccontato praticamente ogni aspetto di questa manifestazione dalla parte contenutistica alla parte così di copertina perché come un buon libro questa manifestazione ha la sua bella copertina che giustamente è stata meditata, pensata e illustrata. Tra l'altro immagino che tu sia presente sui social per chi volesse magari così curiosare digitalmente le tue opere e magari entrare in contatto con te, come si può fare? Io su Instagram sono fuggiresimadove oppure Mara Pidello e lì potete vedere un po' tutti i miei lavori, cerco di pubblicare abbastanza frequentemente quindi se volete fare un giro sono lì. Allora Mara intanto grazie per averci dedicato il tuo tempo per raccontare il manifesto di Serre d'Estate 2024 e anche il tuo lavoro quotidiano. Grazie ancora, noi ancora un passaggio musicale e poi insomma ci rivediamo per i saluti finali.